Spiacevole sorpresa domenica mattina Sì purtroppo spiacevole sorpresa abbiamo trovato questa punta spezzata e il tentativo di frazione di questa cancellata fortunatamente non sono entrati quindi è andata bene ovviamente rimane il dispiacere e anche un po' il pensiero che comunque vengono a violare in qualche maniera la propria abitazione Nella zona si sono verificati altri episodi di questo genere, gli inquirenti cosa hanno detto? A me niente però ho sentito qualche vicino, non ho sentito di altre cose probabilmente hanno trovato le prime case dove non c'era nessuno un sabato sera è normalissimo quindi l'orario di cena in buona sostanza si vede che hanno trovato anche qua la casa che era vuota probabilmente sono stati disturbati e sono andati via Ecco quindi un orario anche tutto sommato non le tre di notte insomma si aggirano abbastanza indisturbati Era sicuramente l'orario di cena perché dalle nove diciamo e mezzanotte ecco più o meno l'orario è stato quello Adesso metterete in atto qualche contromisura o già diciamo siete... Ci sono già gli allarmi, c'è già il cane ma evidentemente non basta neanche più questo Grazie! 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 Grazie!